Oggi avete accettato il nostro invito a dare importanza a questo evento e a tutta la vicenda che ci sta dietro, come voi ben sapete. Abbiamo qua tre nostri parlamentari che sono Andrea Ciotti della Commissione dei Lavori Pubblici al Senato, Luigi Gheghi, Vicepresidente della Commissione Antimafia al Senato e Riccardo Lutti della Commissione Antimafia alla Camera dei Diputati. Noi siamo qui per raccontarvi, ognuno di noi vi dirà qualcosa e ci sono e ci spiegherà il nostro punto di vista sulla vicenda che ha coinvolto i frattatori lombardi in questi giorni. Noi chiediamo le dimissioni di Maroni, chiediamo le dimissioni di Maroni in quanto ci siamo stupiti che Maroni sia stupito di quanto è successo. Noi invece chiediamo a Maroni, fino adesso, dove ha vissuto? Noi in Commissione Antimafia abbiamo più volte posto l'attenzione e cercato di far capire il problema degli appalti della gestione dei lavori pubblici di infrastrutture lombardi chiedendo maggiori controlli, chiedendo moralità e legalità nella concessione degli appalti. Siamo restati inascoltati, abbiamo paventato il rischio di illecità nella gestione degli appalti pubblici e dei lavori pubblici della regione Lombardia e nessuno ha detto niente. Infatti poi è successo questo. Inoltre Maroni ha detto che questa è una vicenda del passato, in realtà non è assolutamente del passato, perché il passato di Lombardia gestisce lavori oggi tra i più importanti della regione Lombardia, gestisce milioni di euro di lavori pubblici, pensiamo alla sanità, pensiamo alle autostrade, alla Brebevi, alla TEM, alla Pedemontana, quindi è una vicenda ospedali per quanto riguarda la sanità, quindi è una vicenda attualissima, non riguarda la scorsa legislatura, anche perché Maroni, la Lega, la scorsa legislatura era a governare la regione Lombardia, quindi anche loro sono pienamente coinvolti in questi. Inoltre Maroni proprio ieri ha nominato Robusti come sostituto di Porro, ha nominato il suo collaboratore, abbiamo una persona implicata in queste vicende e Maroni per dare continuità ai lavori, come scusa di continuità ai lavori, nomina un suo collaboratore, lui non sapeva niente di quanto succedeva, quindi questo noi ci chiediamo è un segno di continuità dei lavori o un messaggio di continuità, nel senso di dire noi facciamo ancora come quello che è sempre stato, la continuità dei lavori o nel sistema che si era creato? Quindi noi, e soprattutto alla luce di stamattina, che riteniamo inaccettabile che Maroni non sia venuto subito, doveva correre qui in Consiglio regionale alle 10 a spiegarci, invece ha avuto un impegno istituzionale, quindi questo ha dato una grave mancanza di rispetto del Presidente Maroni per il Consiglio regionale, quindi alla luce di questo noi chiediamo le sue dimissioni. Le chiediamo le dimissioni di Raffaele Cattara, Presidente del Consiglio regionale, in quanto è così a priori, ha difeso a spada tratta queste persone arrestate ed indagate, lui che è rappresentato dell'organo istituzionale più importante di regione Lombardia, avere questa presa di posizione così forte è così diremmo inaccettabile, per cui per noi anche Raffaele Cattara deve diventersi. Adesso cedo la parola a... Posso fare una domanda? Maroni era un appuntamento a Confidustia stamattina, forse perché il Presidente Confidustia ha detto che questo deve continuare e non lo spiegare tutto, forse per quello. Questo è qua, questo è veramente l'accettabile. Si è schierato? Esatto, anche così. Allora, cominciamo con gli altri interventi. Io do la parola ad Andrea Ciotti, che è il nostro commissario a senato per il lavoro in più. Grazie. Grazie. Quale cosa abbiamo giocato? Quale cosa è che si è stessi? Per chi mi ha assunto sì? Voi non abbiamo i potenti mezzi del Senato. Non abbiamo i potenti mezzi della regione Lombardia, rispetto alla Campania, si deve dire. Diversamente, non meglio, diversamente. A parte le bambine. Allora, che cosa abbiamo visto? Semplicemente, con la dichiarazione di grande evento di SPO, 2007, sono entrati nella gestione dei grandi eventi dell'Era Bertolaso. Questo che cosa ha prodotto? Semplicemente. Una deroga a 139 articoli di legge per accelerare le cose. Di questi 139 articoli, 244 sono articoli del codice dei contratti degli appalti. Quindi noi andiamo in deroga e con queste deroga si è creato un problema. Quindi è semplice, no? Questa visione. Perché noi dobbiamo continuamente andare in deroga delle leggi perché dobbiamo raggiungere degli obiettivi? Sarebbe opportuno fare le cose in tempo e ancora una volta ci troviamo in questo loop, in lo stesso loop dell'Era Bertolaso. Per non parlare poi dell'operazione, diciamo, sulla rendita fondaria, perché è sempre lo stesso problema che avviene in tutta Italia sui termini regolatori. Se noi sappiamo che per la prima volta nella storia di tutte le condizioni libertari, Expo Milano è stata fatta su un suono privato, non era mai successo che avvenisse mangi un suono privato. E l'Agenzia del De Magno ci dice che quel suono se fosse rimasto su un articolo avrebbe avuto un valore economico di 10 euro al metro quadrato, ma se fosse diventato zona d'incio, in zona industriale e commerciale, avrebbe avuto un valore di 163 euro al metro quadrato. Abbiamo pagato questo suono 163 milioni di euro. e in 163 milioni di euro ci sta un'area che era della Fiera e un'area che era di un lato. Quindi, ancora una volta, vince la rendita fondaria. Queste piccole cose semplici fanno capire quali sono i reali giochi che ci sono sotto la forza di Expo. Noi urbanizziamo un'area con i soldi dello Stato, i soldi di cui 1 miliardo e 13, il complesso dei soldi che si vengono spesi, e poi dove 100 milioni ci rimette lo Stato e 415 milioni per la regione, la Camera di Corpeggio e tutto il resto. Urbanizziamo quest'area che è di Arexpo, che è stata in congenzione a Expo fino al giugno 2016. E dopo che cosa faranno? Come valorizzeremo, perché usano sempre questa parola, valorizzare quest'area? Chi ne avrà un guadagno? Ecco, chiediamoci queste cose, queste semplici cose. Io volevo dare semplicemente una riflessione, essendo il Senato, il Presidente, il Comissione Antimafia. La riflessione che volevo fare è esattamente questa, il numero dei controlli che si stanno creando proprio per evitare le infiltrazioni mafiosi. Quindi si è creato un comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, ci sono creati già la seconda edizione delle loro linee guida, ci sono creati dei piani di controllo di cantiere, ci sono intervenute con la Prefettura, con il GITSEC, la via che fa il controllo insieme a DNA, le forze dell'Otria, il gruppo spettivo antimafia e con tutte le procedure che esse ne conseguono. Ecco, questo per dire che quanto così tante strutture entrano, quanti sono i controlli che si devono fare, evidentemente c'è un problema. C'è un problema sia a monte, nel senso che ovviamente qualcosa non quadra, sia poi un problema a coordinare tutto questo. E infatti anche tutto il discorso delle white list, cioè tutte quelle ditte che devono essere inserite volontariamente, che non hanno problemi antimafia, con delle diversità strutture, città, città. Ecco, quindi questo capite bene che se c'è tutto questo è perché sotto ci sono delle grosse problematiche e tutti questi enti lo sono in grado di risolvere. Grazie. A proposito della vicenda Expo, quando Letta si è insediato e è diventato Premier, disse la criminalità e le mafie non pensino che l'Expo sia l'occasione di avere mano libera, saremo duri e impossibili. Dopo una settimana il governo aveva chiuso la direzione investigativa antimafia malvenza, questo è già indice della situazione. Subito dopo, nel 2012 ricordiamo che c'era stato un camion che aveva sfondato uno dei cantieri dove c'era uno, dove è stato rubato uno dei mezzi di un'azienda che aveva vinto uno degli affanti e ricordiamo anche che nella scorsa legislatura nella commissione bicamerale sull'ecomafia era stato detto ed affermato che quasi il 100% dei cantieri di Lombardia, subito relativamente al movimento terra, era in mano all'andrangheta. Ora bastano queste considerazioni, oltre tutte quelle che si possono fare dopo le vicende degli arresti di infrastrutture lombarde per capire che in realtà ormai in Lombardia, così come in tantissime altre zone d'Italia, non c'è più un problema di infiltrazioni mafiose, perché questo è un dato di fatto, forse a mio parere ci sono al massimo delle infiltrazioni di legalità e questo è il vero scandalo. Ci sono delle infiltrazioni di legalità che quasi danno fastidio a un sistema che campa sul silenzio dei cittadini e spesso dei media che non si accorgono di quello scandalo che sta accadendo qui a Milano e Lombardia e in tutta Italia con la politica che va a braccetto con la mafia, con le mafie. E questo è la stessa cosa che è capitato 20-30 anni fa in Sicilia e nei territori del Sud e che nonostante tutto quello che è accaduto si sta riversando in forme diverse in giacca e cravatta in Lombardia e a Milano. Semplicemente noi quando siamo entrati, Stefano Buffani, Regione Lombardia, noi quando siamo entrati in questo palazzo abbiamo iniziato subito a denunciare tutta una serie di stortori di questo sistema formigoniano che si è insomma, si è diventato negli anni, 18 anni di un impero, sono difficili da distruggere e di certo Maroni non è il cambiamento perché sta dimostrando nei fatti che sta semplicemente tutelando le forze politiche che hanno lavorato con Formigoni, dato che la sua lega ne faceva parte. Noi siamo andati a fare un tour al City Expo e ci hanno deriso tutti, oggi i fatti dicono che evidentemente avevamo ragione, però l'importante è che alla fine tutti arrivino sulle nostre posizioni, però mi sento di lanciare un messaggio chiaro a Maroni e a Cattani, ovvero noi siamo qua a fare opposizione vera, forse siamo l'unica opposizione che c'è in questo palazzo, continueremo a controllare le strutture perché noi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni nella sanità, stiamo portando avanti indagini e approfondimenti di natura politica con tutti gli strumenti amministrativi che abbiamo a disposizione per tutta una serie di bandi e appalti che ci sono e che sono secondo noi pericolosissimi, dove ci sono sempre le stesse aziende che partecipano, si spartiscono le vittorie degli appalti e la casualità io non ci credo molto e quindi siamo molto preoccupati, ma siamo qui a rompere le scatole perché non molliamo facilmente. Dario Violi, ecco uno spray settimana scorsa abbiamo fatto un intervento contro il parassitismo di questo palazzo, il parassitismo di una politica che si attacca ai soldi, che gestisce i soldi come se fosse un affare proprio. Abbiamo letto nelle varie cronache dei conflitti di interessi, ma noi diciamo che sono tutti uguali, non siamo solo noi a dirlo, sono i fatti che lo provano, provano che ci sono consulenze milionarie, due avvocati, uno che poi lavorava per Impregino, azienda notoriamente vicina al centro-destra e uno che lavorava per CMB, una delle tante cooperative rosse che lavorano su appalti di infrastrutture lombardi. Quindi noi siamo qua a denunciare queste cose, sono tutti uguali, si spartiscono la torta, si spartiscono gli affari, cercano in modo unitario di convincerci che qualsiasi strada, autostrada, infrastruttura sia necessaria. Ma poi vediamo quei fatti per chi è necessaria. È necessaria per le imprese degli amici che guadagnano devastando il territorio e lasciando debiti o pezzi diroccati nelle campagne attorno alle città. Quindi questo noi è quello che vogliamo denunciare. C'è collusione, questi due avvocati, lo diceva un'informativa della Guardia di Finanza nel 2012, che erano in conflitto di interessi, nessuno ha mosso un dito. Finché non siamo entrati qua noi, maggioranza e opposizione andavano a braccetto e nessuno andava ad approfondire quello che già la Guardia di Finanza facendo il proprio lavoro denunciava. Quindi oggi ci siamo, ribadiamo la nostra presenza, senza di noi, anzi con noi, non possono assolutamente dormire sonni tranquilli. Grazie. Allora, quello a cui stiamo assistendo deve interessare prima di tutto tutti i cittadini lombardi, perché non si deve pensare che è un qualcosa di estraneo, è un qualcosa che ci riguarda quando avvengono arresti così importanti ai vertici di una società interamente particolare partecipata da Regione Lombardia e siamo sempre di fronte al solito intreccio insano che purtroppo è sistematico all'interno di questa Regione e che noi intendiamo rompere definitivamente, fra manager di enti pubblici, Regione Lombardia e Compagnia delle Opere, perché adesso cominciamo a chiamare le cose con il loro nome. Dobbiamo avere paura di dire le cose con il Stato. L'ipocrisia della politica partitica che consente, per questo noi diciamo tutti a casa, perché con questa classe dirigente della politica partitica non andremo da nessuna parte. Bisogna riportare l'onestà all'interno delle istituzioni, riportare i cittadini comuni a interessarsi delle questioni del bene pubblico, il nostro bene, quello che è di nostra proprietà e quindi anche questa falsissima, oserei dire, fetida, riverginazio, siglata dalla stretta di mano fra Maroni e Pisapia sull'affare Espo che vuole archiviare la questione degli arresti, come se gli arresti di infrastrutture lombarde non ingenerassero in un cittadino informato il legittimo sospetto di collusioni anche sulle opere Expo. Questo noi intendiamo ribadirlo, nonostante le numerose censure, perché il cittadino deve finalmente reagire e chiederemo mobilitazioni continue contro questo sistematico impianto di corruzione che avviene in regione Lombardia, ma è speculare rispetto a quello che accade nel nostro paese. Maroni ha promesso di scontinuità, ma è passato un anno ormai con la sua giunta, ma c'è alcuna scontinuità su gran parte dei cittadini. Io vorrei parlarvi brevemente, una delle promesse che lui ha fatto è una maggiore trasparenza, la trasparenza sembra una moda intellettuale, in realtà è un concetto fondamentale per portare un maggior controllo dei cittadini sulla cosa pubblica. Vi faccio solo due esempi, io ho chiesto informazioni, ovviamente con strumenti ufficiali, non mi hanno neanche risposto. Ho chiesto documentazione a Lombardia Informatica, mi hanno preso in giro per mesi mandandomi pezzettini di carta, infine mandandomi dei documenti convertiti da omissi, cosa assolutamente illegale, ho dovuto fare un ricorso al difensore regionale, quindi continuano a gestire le cose come se fosse cosa loro e non cosa pubblica, negano informazioni all'esterno. Noi abbiamo fatto anche uno studio sulla ottemperanza, sul rispetto di normative di Lombardia Informatica, sulla trasparenza in posto delle pubbliche amministrazioni e da regina Lombardia con il tuo sistema regionale di internazioni è largamente deficitare e da regina Lombardia. Mi sento poco? Mi sento poco? È al massimo. È al massimo. Vai, vai, vai. Solo due aggiunte, oggi questi scandali hanno dimostrato che davvero sono tutti compatti gli uni con gli altri, pensate al Presidente del Consiglio regionale Cattaneo, il quale fino alla legislatura precedente era il Presidente dell'Organo di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde e quindi non poteva non sapere. Oggi lo è del tenno e quindi anche lui è coinvolto in primis in questa situazione e lo sono anche gli altri consiglieri dell'Organismo di Sorveglianza e quindi Altitonante e quindi Latoia e quindi Anelli, che anche loro vogliamo sapere che cosa hanno fatto dentro il Consiglio di Sorveglianza di Infrastrutture Lombarde. Non solo, abbiamo un Presidente di Confindustria che si permette di dire che adesso basta nuove indagini della magistratura perché dobbiamo proteggere quei lavori. In totale spregio agli imprenditori onesti che lavorano nella legalità e queste sono le persone che vogliono difendere i lavoratori e gli imprenditori. Per farlo dobbiamo invece liberarci della zavorra che è la corruzione, il malaffare, gli appalti con la discrezionalità di cui ormai siamo a conoscenza, in realtà fanno crollare le imprese serie e che danno da lavoro onesto e quindi chiediamo le dimissioni di questi personaggi che hanno saputo solo cogliere un aspetto del Movimento 5 Stelle quando chiedeva Expo diffusa e sostenibile. L'hanno diffusa? Questo sì, hanno diffuso in tutte le province lombarde, tutte il malaffare e la discrezionalità degli appalti. A Mantua, dove la Cremona Mantua è sotto indagine, dove c'è sotto indagine anche il polo spedaliero di Mantua, a Monza e Brianza dove c'è il San Gerardo coinvolto, a Pavia, a Bergamo per i riuniti, a Brescia, ogni provincia lombarda è coinvolta in questo scempio. Questo sì, sono riusciti ad essere davvero attenti e diffusi in quest'opera magnifica. Adesso lasciamo spazio alle vostre domande. Una domanda. A livello nazionale, grazie al Movimento 5 Stelle, siamo introdotti a questa normativa secondo cui il politico non può dire più che non sapeva. Il caso locale è applicabile per la regione Lombardia su questa cosa. Maroni può continuare a dire, ma io non lo sapevo. Verrà riconosciuta una responsabilità politica direttamente grazie a questa norma che viene introdotto. Adesso mi sapevo che mi voglia rispondere. Io penso che la responsabilità politica è assolutamente in capo a chi governa una regione e quindi non si può assolutamente sopra la responsabilità. Noi dobbiamo a volte a confondere la responsabilità amministrativa con la responsabilità politica. La responsabilità politica è ovviamente più alta e non può essere disgiunta. Quindi non si può dire che questa è una cosa che ha fatto quello che c'era prima di me. A parte che stiamo insieme con qualcuno, ho già detto bene. Ma la responsabilità politica è assolutamente in carico a colui che rappresenta a tutti i cittadini. Quindi non è assolutamente pensabile che ci si cammini fuori dal nostro cittadino. Quindi da qui la razza delle dimissioni dell'intera giunta. Ma posso aggiungerti una cosa? Certo. La responsabilità c'è nel momento in cui l'attuale arrestato ex DG di Infrastrutture Lombarde era appena stato lanciato o proposto come subcommissario all'Expo in rappresentanza della regione Lombardia. Questa persona era già stata raggiunta dal punto da risi, da richieste di potaggi. Sono tutti una serie di accertamenti che li aveva ricevuti e allora noi per difenderlo cosa abbiamo fatto? Volevamo candidarlo come subcommissario ex. Mi sembra che la responsabilità ci sia. Tant'è che Maroni appena è successo l'arresto ha detto no ma non era vero una sfida giornale. Dopodiché gli hanno fatto notare che gli aveva detto queste cose. Allora ha corretto dicendo me ne assumo la responsabilità politica. Ecco, si cambia come le mangi e ruole. Noi crediamo che per ridare valore alle istituzioni come ci chiedono sempre dentro questo palazzo. Bisogna fare in modo che le parole diano segute ai fatti. Invece qui si racconta le favole e poi si procede per la propria strada. Questo è un problema secondo noi di coerenza che manca credo sia a livello nazionale che anche qui sono le parevi dei. grazie a tutti gli attivisti.